C'è una cosa in particolare che l'ha colpita di questa vicenda, poi entriamo nei vari aspetti. Tutto mi ha colpita e tutto mi ha toccata, ma in maniera particolare la mancanza di empatia e la mancanza di umanità, che chiaramente possiamo desumere da quello che è stato il comportamento successivo dei ragazzi, che nel momento in cui Willy era a terra, non sapevamo ancora se fosse o meno deceduto, sono risaliti in macchina e sono tornati al loro paese. Questo è quello che francamente ho trovato sconcertante dal mio punto di vista, perché rimanda ad altri accadimenti, ahimè parimenti tragici, e ci dà proprio il metro di quanto ci siamo forse discostati dalla capacità di avvicinarci e di comprendere il dolore dell'altro.